Buongiorno e ben trovati. Il personaggio di cui vi voglio parlare oggi, dalle pagine del Talmud, è un personaggio molto importante anche se lo troviamo solamente in un riferimento, nel trattato di Berahot ed è il Channa, la madre di Sansone. Questo racconto, questo episodio come viene poi esaminato nel Talmud mi è particolarmente caro perché è stata la prima pagina di Talmud che ho studiato ormai molti anni fa insieme a Rav Mino Bakbut in un campeggio estivo. Rav Mino arrivò, aprì questo grosso libro che noi non avevamo mai aperto e cominciò a leggere, a tradurre e quindi devo dire che mi è rimasto sempre molto molto caro perché comunque per me è stato l'inizio di un percorso che ancora non finisce, continua ogni giorno. Allora in primo luogo dobbiamo leggere il brano appunto della Tanakh in cui si parla di questo personaggio e quindi siamo al capitolo 1 di Samuele, primo Samuele. Si dice appunto che c'era un uomo di Ramataym che aveva due mogli, una aveva nome Channa e l'altra Penina. Penina aveva figli e Channa non ne aveva. Quindi siamo di nuovo di fronte al personaggio di una donna sterile come ce ne sono tante e noi sappiamo bene anche nella Torà come Sara e sappiamo anche bene che i figli di queste donne sterili che sono stati lungamente invocati, per i quali sono state dette tante preghiere, sono particolarmente amati e ci fanno anche capire quanto sia importante il dono della maternità che invece viene normalmente considerato come un qualche cosa di scontato e che invece per molte donne non è assolutamente scontato ma anzi. Quindi Channa era amata, riceveva una parte doppia dal marito però non aveva figli e questo la rendeva molto triste. Leggiamo quindi. Così avveniva ogni anno tutte le volte che Channa veniva alla casa del Signore la rivale la mortificava così che essa piangeva e non mangiava. Il Channa suo marito le diceva Channa perché piangi perché non mangi perché sei così triste non valgo più io che se tu avessi dieci figli. Un giorno dopo che abbia mangiato e bevuto a Shilò, Channa si levò e andò alla porta del Tempio del Signore e lì in quel momento stava seduto sul suo seggio alla porta del Sacro Luogo. Essa aveva l'anima piena di amarezza. Pregò il Signore piangendo dirottamente e fece questo voto. Signore Zevaot, se tu avrai riguardo all'afflizione della tua serva e ricordandoti di me non ti dimenticherai la tua serva e concederai alla tua serva un figlio maschio io lo consacrerò a Dio per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. E poiché essa prolungava la sua preghiera Elì stava osservando la bocca di lei. Channa parlava in cuor suo, muoveva solo le labbra ma non si sentiva affatto la voce per cui Elì credette che fosse ubriaca. Le disse dunque Elì fin quando continuerai a ubriacarti vai a smaltire il tuo vino. Channa rispose no mio Signore io sono una donna tribolata nello spirito non ho bevuto vino né bevande né briante ma stavo effondendo l'anima mia dinanzi al Signore. Non volendo considerare la tua serva non voler considerare la tua serva quale mala femmina solo l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed Elì rispose vai in pace e il Dio di Israele ti concederà ciò che tu gli hai richiesto ed essa rispose possa la tua serva trovare grazia presso di te. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo sembiante non fu più quello di prima. Dopodiché appunto sappiamo che Channa rimane incinta, genera Sansone e Sansone viene dedicato al Tempio e quindi per tutta la sua vita sarà un azireo. Quindi non si taglierà i capelli, non si raderà la barba, non berrà bevande inebrianti. Allora partendo da questa preghiera di Channa, i maestri fanno un'osservazione veramente strabiliante che secondo me dovrebbe essere conosciuta a tutti, sicuramente molti la conoscono ma vale la pena di leggerla. Dunque siamo nel trattato Veracot che come voi sapete bene è stato tradotto in italiano a cura del progetto Talmud. Siamo alla pagina 31a del trattato di Veracot ed ecco leggiamo gli insegnamenti derivati dalla preghiera di Channa. Disse Rav Hamnuna quante regole importanti possiamo imparare da questi versetti della preghiera di Channa. E Channa parlava in cuor suo. Da qui si impara che chi prega deve rivolgere il proprio cuore a Dio. Soltanto le sue labbra si muovevano. Da qui si impara che chi prega deve scandire le parole con le labbra. Ma la sua voce non si sentiva. Da qui si impara che è proibito pronunciare la propria preghiera a voce alta. Ed Elì pensò che fosse ubriaca. Da qui si impara che un ubriaco ha il divieto di pregare. Quindi vediamo tutte queste regole fondamentali della preghiera della Midà che vengono dedotte dalla preghiera di Channa. Quindi questo è veramente interessante. Andando avanti però i maestri imparano altre cose e commentano la preghiera di Channa in altri modi. Uno di questi riguarda il fatto che la parola tua serva è ripetuta tre volte. L'afflizione della tua serva e non dimenticherai la tua serva e concederai alla tua serva. Disse Rabbi Yoseh figlio di Rabbi Haninah. Queste tre serve a che cosa si riferiscono? Ossia perché il termine serva è ripetuto per tre volte nello stesso versetto? Disse Channa di fronte al Signore Benedetto padrone del mondo. Tu hai creato nella donna tre prove che possono portarla alla morte e c'è chi dice tre legami di morte ed essi sono i precetti della Midà, della Kalla e dell'accensione del lume dello Shabbat. Ho forse trasgredito uno di questi precetti? Quindi ecco che di nuovo Channa porta in sua difesa il fatto di aver osservato i tre precetti fondamentali della donna ebrea. Ma non finisce qui. C'è ancora un altro insegnamento interessante. Channa parlava in cuor suo. Disse Rabbi Eleazar a nome di Rabbi Yoseh Benzimra. Parlava a proposito di cose che stavano sul suo cuore. Disse di fronte a lui padrone del mondo. Tra tutte le parti del corpo che hai creato nella donna non è creata una che sia senza funzione. Gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, il naso per odorare, la bocca per parlare, le mani per compiere un lavoro, i piedi per camminare, il seno per allattare. Per quale motivo hai posto queste mammelle sul mio cuore? Non per allattare? Dammi un figlio e con quelle io l'allatterò. Ecco quindi che appunto poi i commenti continuano. È particolarmente bella direi questa pagina del trattato di Berakot che come sappiamo riguarda le benedizioni e che prende appunto spunto dall'episodio di una donna così angustiata e così sofferente che però poi al fine grazie a tutte le sue preghiere riesce a concepire ed avere un figlio che sarà anche un eroe di Israele. Bene, con questo vi saluto, vi ringrazio e alla prossima.